Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Il programma televisivo Ballando con le stelle è ormai una certezza nel cuore degli spettatori italiani. Va in onda su Rai 1 dal 2005 in prima serata. La conduzione del programma è affidata a Millie Carlucci. Anche lei una certezza nella conduzione, capace di entrare in empatia con il pubblico. Infatti, il programma è uno dei più longevi della tv italiana. Purtroppo, negli ultimi tempi, il programma Ballando con le stelle è stato colpito da una triste notizia. La madre di Alessandra Tripoli, di nome Ninfa Leone, è prematuramente deceduta a causa di una malattia. Questa dolorosa notizia è stata condivisa da Alessandra Tripoli sui suoi social media, tramite un lungo post su Instagram. Nelle sue parole, Alessandra Tripoli ha voluto ricordare la madre come una persona sempre sorridente e solare. Oggi, un pezzo del suo cuore se ne va con lei e la perdita è profondamente dolorosa. La madre della ballerina di Ballando con le stelle è venuta a mancare a causa di una malattia che è stata scoperta circa un anno fa. Alessandra Tripoli ha anche condiviso una foto della madre insieme al nipotino, rendendo omaggio ai bei momenti trascorsi insieme. Le mamme non dovrebbero mai andarsene, dovrebbero restare sempre con noi, vero? Mandiamo tutti un messaggio di affetto ad Alessandra.